Il pomeriggio di Radiolinea numero 1 con Molto Bene, anche in replica la sera della domenica, dalle 22 alle 24, la due ore è il programma e se la matematica non è un'opinione è 14-16 sabato, domenica 22-24. Palisesto di Radiolinea numero 1 rivoluzionato dal nostro sbarco insieme ai Camillas, tutti i weekend, messaggi per noi al 335 721 31, potete scriverci quando volete, potete mandarci un sms, un vocale, un video, da Leona. Leona, ciao Leona, andiamo a leggere cosa ci scrive, veloce però, saremo in ritardo, c'è la pubblicità, viviamo con quello, dunque, ragazzi forse non è il caso di leggerlo, e anche questo è la testimonianza del contenuto, Certo, c'è della densità che torneremo a fare tra poco, a elargire a piene mani tra poco, Vittorio devi dire qualcosa? Sto guardando, c'è un ragazzo che si è distratto un attimo, ma secondo me torna, ha il potere di guardare la telecamera dove non si riflette la sua immagine, ma lui vede quella dei 10.000 che ci seguono in tv. Ok, torniamo tra poco.